Sto giocando Final Fantasy XIV, l'unico capitolo della saga di Final Fantasy che non avevo ancora giocato e mi sta piacendo. Così tanto che secondo me si merita una guida e forse anche una serie di guide, fatemi sapere nei commenti se vi farebbero piacere. Potete giocare Final Fantasy XIV su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC ed è disponibile una prova gratuita. E inizieremo proprio parlando della prova gratuita. Con la prova avrete modo non solo di testare il gioco ma di stancarvene perché la prova non ha limiti temporali ma ovviamente ha un cap di livello, potrete arrivare fino al livello 50. Ma attenzione con tutte le classi, quindi se arrivate al cap con il guerriero per esempio e volete provare il mago non c'è problema, cambiate classe e via. Oltretutto il gioco non vi impedisce di giocare una volta arrivati al livello 50, semplicemente non immagazzinerete esperienza oltre quel livello, a meno che non acquistate il gioco e non sottoscriviate un abbonamento. La prova contiene tutto il gioco base, tutta la storia principale, ovvero tra le 80 e le 100 ore di gioco. Potrai esplorare tutto, fare tutte le attività e le missioni secondarie che vuoi e il tuo personaggio e i tuoi progressi verranno mantenuti ovviamente quando e se deciderai di acquistare il gioco. Ma non è finita qui, dopo la storia principale infatti, con la prova avrete accesso pure alla prima espansione, Heavens World, che dicono sia una storia in realtà molto ben scritta e che dura tante tante ore. Su Heavens World potrete oltretutto arrivare fino al livello 60, quindi c'è anche un'aggiunta in termini di livello e di esperienza accumulabile. In tutto potrete giocare praticamente dalle 150 alle 200 ore senza sborsare un euro. Ci sono altre limitazioni oltre al livello, ma non impattano l'esperienza, quasi per niente, vi dico la verità. Io finora ho giocato senza mai trovare nulla di bloccato. C'è un limite per esempio al numero di kill, che è la moneta del mondo di gioco, che potrete ottenere, ma il numero è veramente molto alto. Ci sono delle restrizioni sui rates, non potrete ottenere tutte tutte le classi, ma ne avrete comunque tantissime da poter scegliere, almeno 7-8. Ma sti cavoli, avrete davanti a voi un gioco completo, lunghissimo e pieno di cose da fare. Inoltre, se volete giocare ancora, potrete livellare le altre classi fino al cap di livello, quindi c'è da giocare veramente, veramente tanto. Il gioco, come vi dicevo, è disponibile su PC, PS4 e PS5 e il crossplay è abilitato anche per le versioni di prova. Una cosa che mi aiuta un sacco e che a voi costa pochissimo è mettere like al video e quindi mi prendo questi 5 secondi per chiedervi di farlo e per ringraziarvi. Ora proseguiamo. Parliamo di server e data center. Vi spiego questa cosa in due parole. All'interno di ogni data server ci sono vari server. Ogni data server è localizzato in un punto diverso del mondo e, se siete italiani, vi consiglio di usare i data server europei, ovvero Chaos o Light. E scegliere poi da lì sotto un server in cui creare il vostro personaggio e cominciare l'avventura. Se sceglierete un server distante dal vostro paese, sicuramente avrete un ping molto alto, che non è ottimale per niente per un gioco online. Una volta che avrete creato un personaggio in un server, potrete visitare altri server, ma solo dello stesso data center. Quindi, se avete degli amici con i quali volete giocare, mettetevi d'accordo prima e scrivetevi tutti nello stesso data center. E, preferibilmente, anche nello stesso server, così riuscirete a beccarvi praticamente sempre. Quindi, il personaggio sarà indissolubilmente legato al data center e non potrete spostarlo in un altro data center. Ma, stanno lavorando per darci questa possibilità prima o poi. Potrete però creare più personaggi in diversi data center con un unico account. Ultima cosa sui server. Ci sono alcuni server che hanno la stellina vicino. In quei server otterrete più esperienza del normale. È un incentivo per far riempire quei server che, per qualche motivo, non sono ancora pieni. Ad ogni modo, non avrete assolutamente bisogno di boostare l'esperienza in nessun modo, perché è veramente difficile non raggiungere il livello necessario per proseguire con la storia principale. Almeno, a me non è mai successo finora. Struttura e storia. Da notare che Final Fantasy XIV è un MMO progressivo. Ovvero, prima di poter giocare la prima espansione, bisogna completare la storia principale, il gioco base. Prima di poter fare la seconda espansione, bisogna finire la prima, e così via. Oltre al gioco principale, a Realm Reborn, Final Fantasy XIV comprende ad oggi quattro espansioni. Heavensward, compresa con la prima prova, Stormblood, Shadowbringer e Handwalker, che non è ancora uscita, ma uscirà quest'anno, nel 2021. Una grande particolarità di questo MMO è il fatto che si tratta di un MMORPG story-driven. Pesantemente story-driven. Sembra davvero di star giocando ad un Final Fantasy single player, ad un JRPG single player open world. La storia e la narrazione sono fondamentali per questo gioco, il che è sicuramente un pregio, se vi piacciono i giochi con una storia bella corposa, ovviamente. Però vi devo avvertire che il gioco è disponibile solo in inglese e non in italiano. Il fatto che sia story-driven vi dà anche un'indicazione su come giocarlo. In molti MMO molto spesso si cerca di trovare un hub di quest, come può essere una città, accettare 20 missioni secondari, andare a completarle tutte e poi tornare e recuperare tutte le ricompense. Si può giocare così, ma credo proprio che Final Fantasy XIV sia nato, sia stato pensato, per essere giocato in maniera diversa, appunto come un JRPG single player inserito però in un MMO. C'è una grande enfasi nella storia e vi ritroverete spesso a leggere, a vedere delle cutscenes, eccetera, proprio come in un JRPG classico, diciamo. Una volta capito come funziona Final Fantasy XIV a livello, diciamo, tecnico, bisogna anche dare qualche indicazione su come iniziare proprio a giocare. E iniziamo dalla scelta della razza e la personalizzazione dell'aspetto. Le razze in Final Fantasy XIV hanno un impatto minuscolo sul personaggio che andrete a creare a livello di caratteristiche, quindi vi consiglio direttamente di scegliere la razza che vi piace di più a livello estetico. Questo perché il vostro personaggio ve lo porterete dietro per centinaia e centinaia di ore, se tutto va bene, quindi deve essere un personaggio che vi piace, che vi soddisfa del suo aspetto estetico. Ci sono un paio di razze che non saranno disponibili perché fanno parte di altre espansioni e quindi non potrete sceglierle, a meno che non abbiate acquistato l'espansione. Ad ogni modo, durante il gioco potrete ottenere delle pozioni chiamate Fantasia che vi consentiranno di cambiare la razza del personaggio. Potrete comprarle, ma le otterrete due, almeno due, gratuitamente, semplicemente completando Arrium Reborn, il gioco principale, e Heavensward, la prima espansione. Il personaggio è davvero tanto personalizzabile a livello estetico e questa cosa mi è piaciuta molto. Potrete cambiargli i capelli, nel taglio, il colore, eccetera, eccetera, e ci sono decine e decine di pettinature e colori diversi. La palette è praticamente infinita, ma poi potete cambiare con lo stesso livello di dettaglio, occhi, naso, bocca, statura, insomma, potrete davvero personalizzare il vostro personaggio in ogni suo dettaglio. Adesso vediamo come funzionano le classi su Final Fantasy XIV. Innanzitutto bisogna dire che con lo stesso personaggio potrete, da un certo punto in avanti, ovvero dal livello 10, cambiare classe quando e come volete. Per farlo basta andare nel menu del personaggio ed equipaggiare l'arma della classe che volete. È proprio così, è una cavolata. Quindi se prendete una classe e poi vedete che non fa per voi, ricordate che potrete cambiarla facilmente. Importantissimo capire anche il legame fra le classi e i ruoli, ovvero se scegliete la classe guerriero, mettiamo, che ruolo ricoprirete all'interno del party durante i combattimenti? Ci sono tre ruoli, come in molti MMO. Il tank, che è colui che assorbe i danni, il damage dealer, che è quello che fa danni sostanzialmente, chiamato DPS, se è l'healer, il supporto, colui che aiuta e cura il team. Quindi dovrete scegliere la classe adeguata a seconda di ciò che vorreste fare nel gioco in combattimento. Come vi dicevo prima, potrete cambiare classe ad un certo punto, ma iniziare col piede sbagliato non è sicuramente l'ideale. In questo video vi parlerò solo delle classi che potrete scegliere all'inizio. Un video più approfondito arriverà fra poco e ve lo metterò qua sull'occhiello e poi in descrizione. Ricordate anche che ogni classe base, a livello 30, si evolve in un'altra classe, che ricopre però sempre lo stesso ruolo. Per giocare un tank dovrete scegliere la classe Gladiator, che si evolve in Paladin, o la classe Moroder, che si evolve in Warrior. Per giocare invece un healer dovrete scegliere il Conjurer o l'Arcanist, che si evolvono in White Mage e Scolar. Se volete un DPS corpo a corpo, potete scegliere il Pugilist, che diventa Monk, o il Lancer, che diventa Dragoon. Potrete anche giocare un DPS però dalla distanza, scegliendo la classe Archer, che poi si evolve in Bard. Oppure, se volete fare danni magici, sempre ovviamente dalla distanza, potrete scegliere l'Arcanist, che si evolve in Summoner, o il Traumaturge, che diventa Black Mage. Ripeto, un video più approfondito arriverà e lo troverete in descrizione e qua sull'occhiello. Ricordate che con un solo personaggio potete giocare tutte le classi, e potete cambiare classe velocemente, semplicemente equipaggiando l'arma di quella classe. Si può giocare a Final Fantasy XIV sia con il controller, che con la tastiera, scegliete voi. Io mi sto trovando veramente da D con il controller, anche se è un po' più complicato, infatti per usare le abilità è sempre necessario premere un grilletto combinato con un altro tasto. Però, vi dico la verità, dopo 5 minuti viene tutto molto naturale. Inoltre, considerate anche che il gioco vi farà ripetere un sacco di volte le stesse azioni, e vi abituirete in pochissimo tempo. Ma se volete giocare con mouse e tastiera, ovviamente nessun problema si può fare. Addons e la user interface. Non c'è bisogno di nessun addon per customizzare, per personalizzare la user interface. Per chi non sapesse cos'è, è quell'interfaccia con tutti i comandi, le barre della vita, eccetera. È tutto completamente personalizzabile già dall'inizio, ma vi consiglio di farvi qualche missione prima di mettervi a personalizzare, per capire bene cosa vi piace e cosa non vi piace, e dove spostare le cose che non vi piacciono. Oltretutto, potrete creare delle template di user interface da poter cambiare, il che è molto comodo nel caso vogliate cambiare classe. In Final Fantasy XIV ci sono 200 tipi di quest differenti. Oggi vi spiego i tipi principali, le quest più importanti. Iniziamo con le main scenario quest. Quando vedete un'icona così sopra un personaggio, parlare con quel personaggio vi darà accesso a delle missioni che vi consentono di proseguire la storia. Quel simbolo sostanzialmente significa missioni della storia principale. Il simbolo blu, invece, vi indica che completando quella quest sbloccherete un contenuto, un'altra attività da fare nel gioco. Cambiare taglio o colore dei capelli, per esempio, la possibilità di acquistare e possedere case, di avere dei pets, una nuova abilità, eccetera, eccetera. Insomma, sono sempre robe divertenti e utili, e quindi vi consiglio di farle. Poi ci sono le missioni secondarie, le side quest. Uccidi i mostri, recupera il bottino, salva l'ostaggio, porta questa cosa da quest'altra parte, eccetera, eccetera. Queste missioni vi danno delle ricompense in esperienza, denaro e oggetti, e spesso vi forniscono anche informazioni sull'area in cui siete, che conflitti ci sono, che bestie potete trovarci, eccetera, eccetera. E poi ci sono le missioni ripetibili, che potete affrontare più volte, e queste hanno solo lo scopo di farvi guadagnare gill o esperienza. Nella parte in alto a sinistra dello schermo vedrete sempre la vostra missione principale, ovvero cosa dovete fare per far avanzare la storia. Invece di perdervi fra le decine e decine di missioni secondarie che ci sono in giro, vi consiglio di concentrarvi di più sulla storia principale, sia perché è narrativamente più interessante, sia perché rischiate di perdere molto tempo dietro alle secondarie, e potreste dimenticarvi i particolari della storia principale. Oltretutto, per accedere alle altre espansioni e per arrivare all'endgame, dovrete terminare la storia principale dell'espansione precedente, quindi se perdete tanto tempo e fate secondarie su secondarie, ci metterete molto di più ad arrivare all'endgame o comunque a proseguire all'espansione successiva. A livello 15 sbloccherete la Hall of the Novice, una serie di missioni molto importanti perché vi insegnano un sacco di roba, come andare a dei dungeon, come combattere con la vostra classe, le basi di come interrompere casting, come si schivano l'abilità d'aria, eccetera, eccetera. Insomma, queste missioni vi insegnano come giocare a Final Fantasy XIV con la vostra classe e sono quindi molto molto importanti. Gli Etherits sono grandi cristalli che vi consentiranno di teletrasportarvi da un punto all'altro della mappa e sono fondamentali perché la mappa di Final Fantasy XIV è gigantesca. Toccandoli li attiverete come punti di teletrasporto e potrete quindi usarli per coprire distanze enormi. Oltre a questi cristalli più grandi che stanno nelle aree principali della mappa, ci sono anche dei cristalli più piccoli chiamati Ethernet Shards che potrete utilizzare per spostarvi all'interno di una città. Bene, questi ragazzi erano tutti i consigli e le informazioni che mi sento di darvi per iniziare a giocare a Final Fantasy XIV. Io lo sto approcciando proprio come un JRPG classico e mi ci sto divertendo parecchio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ovviamente iscrivetevi al canale e mettete like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.